Parliamo di Morbius, il nuovo film della Marvel Di cui non so, una benamata mazza Ma io non so niente di Morbius, neanche... Cioè, io leggevo L'Uomo Ragno quando ero a Pischiello E quando c'era Morbius, negli episodi, cioè nel volume Io facevo così, no? Fall, Morbius Mi stava proprio sul cazzo Perché comunque non lo vedevo come un personaggio horror Come lo vedo adesso, no? Che invece mi ha intrigato di più il fatto che Che almeno ci fosse un personaggio horror nella Marvel Però veramente quando c'era il fumetto con Morbius Dicevo, minchia che due coglioni Eh, ma siccome la Marvel sta finendo un po' le cartucce Stanno andando a recuperare un po' tutti i personaggi possibili E qua, e qua la quantità di errori che fa Sono veramente tanti, ragazzi Non è tutto... Non è tutto da buttare Non è tutto da buttare, ma... È la Marvel, eh? Cioè, soprattutto... Io non credo che avrebbero fatto un film così Se avessero visto The Batman Perché The Batman Calculo Oltretutto è un noir Questo l'hanno fatto in contemporanea Quindi... Adesso, secondo me, la DC Gli ha un pochino messo Il fuoco sotto Adesso vedremo se Cercheranno alzare il tiro Perché È vero Che la DC cerca sempre di essere un po' più autoriale La Marvel invece manco per il cazzo Manco ci prova... Manco da lontano, proprio Ehm... Chi è Morbius? Intanto che cerco chi è regista Che l'hanno pescato da chissà dove Daniel Espinosa Non facciamo subito quelli Oh, ma chi cazzo è questo? Magari uno è bravo anche se non ha fatto tantissime cose Infatti è molto... È molto giovane Ha fatto... Quattro, cinque film No, di più Uno, due Tre, quattro, cinque Sei Cinque film Quei in cantiere Beh, insomma, è uno che è lanciatissimo proprio Perché c'era due film contemporaneamente Jared Leto Michael Keaton Insomma Che faccia parte del cast è un po' Un eufemismo, eh Cioè, fa parte del Del Post-credits Della scena post-credito Quasi post-credit Che tra l'altro È uno dei tasti dolenti di questo film Come faccio però a raccontarvi la trama Senza mettermi sotto tipo Trama Il biochimico Michael Morbius Che ha un problema al sangue È nato sfigato È nato con Con questo sangue Sfigato E deve continuamente fare trasfusione Eccetera È molto intelligente È cresciuto Praticamente Ospedalizzato Dalla mattina alla sera Però è molto intelligente Si diventa Uno scienziato Che Vince persino Un premio Nobel E Gli sputa Gli allo risputa indietro Perché è troppo Lui è troppo Ficco Per prendersi un premio Nobel Vabbè Guardiamoci il trailer Intanto Che vi Dico La sua assistente Gli dice anche Ma Figlia ti so Cioè sai che i premi Nobel Sono soldi Se ti servono per la ricerca Quindi uno è Così intelligente Da creare Una serie di cose E vince il primo Nobel Ma non da capire Che i premio Nobel Sono soldi E i geni I geni sono così Sono un po' Sono un po' così Geni e sregolatezza Mi fa morire Quelli che fanno La recensione Oh mio dio Che brutto Morbius Che Bello Brutto Cioè Ma di che Cosa potete Aspettarvi Da questo film Esattamente Quello che Vedrete C'è solo Una piccola Chissà come Chissà come Era in inglese Ecco Questa è una domanda Che mi faccio Io penso che Tutti i film In lingua originale Guadagnino un bel 40% di Bellezza Diciamo Come se Sì come se fosse Una skill No Un 40% di bellezza Solo perché sono In lingua originale Perché Ragazzi Ma perché I doppiatori italiani Cioè Non è vero Che sono bravi Cioè Ci sono quelli bravi E poi ce ne sono altri Che non sono bravi O che non hanno Il tempo Per fare un lavoro Come si deve Perché Sono stati pagati Poco Quindi fanno Tutto la cazzo Di cane Con traduzioni Sbagliate E cose Pazzesche Cose pazzesche Guardatevi Qualsiasi film Con la voce Del vero attore E godrete Molto di più Andiamo a vederci Il thriller Uno penserà che sono Invece Lo dedico apposta Con queste cose Anni fa Persone in tutto il mondo Hanno la mia malattia Sono qui Per trovare una cura Dobbiamo superare i limiti Prenderci dei rischi Se vuoi scappare Fallo adesso Sbagliare i limiti Sbagliare i limiti Sbagliare i limiti Vorrei saperlo Stavo morendo E ora sono più vivo Che mai Ci sono dei limiti Devono esserci Qualcosa dentro di me Mi spinge A consumare sangue Michael Mezza città vuole ucciderti Non succedeva nulla del genere Da quella faccenda San Francisco L'altra metà Vuole controllarti Ehi dottor Michael Dovremmo restare in contatto Farei di tutto Per salvare una vita Ma non so De cosa sono capace Tu salvi le persone Non le uccidi Sei qui per curare il mondo O per distruggerlo Nessuna delle scene che vedete Battute È collegata Tu chi diavolo sei? Io sono Venom Scherzo Sono il dottor Michael Morbius Al tuo servizio Forse questa è la battuta più bella del film Quando c'è Vabbè Lui vede che Quest'uomo è super forte E dice Ma che sei che sei più forte E lui dice Sono Venom Lì Devo dire che mi ha fatto un po' ridere Anche perché Essendo che i diritti Di questi personaggi Sono strani Sono stati comprati Da Sony In modo singolo Infatti in Venom Non vedete mai Spider-Man E altri personaggi E in Morbius Non vedete mai Spider-Man Ma vedete L'avvoltoio Come avete visto C'è Michael Keaton E dicevo Ma che cosa ha fatto Di mal Deve dei soldi A qualcuno Per fare questi film Non lo so Perché poi li fa Ma li fa anche in un modo Che Non mi piace molto Allora Devo dire Allora Non so se cominciare Degli aspetti Sgradevoli Che però sono anche Abbastanza telefonati Sì Partiamo da quelli Allora Innanzitutto È un film Marvel Quindi io mi chiedo Ma chi è che Veramente pensa Di andare a vedere Un capolavoro Perché Io ho visto Una gente delusa Ma questa gente delusa È la stessa Che Probabilmente Invece Era ipergasata Per Spider-Man 3 Quello L'ultimo Tutti e tre Di Spider-Man Ma c'è Ragazzi Ma È un filmaccio Anche quello Anche se È scritto meglio Di due precedenti Qua mi sembra Che un po' Il parametro Sia questo C'è Marvel Marvel Fa dei film Sì ma Fa dei film Orrendi E poi ne fa uno Migliore E La gente Inizia a essere contenta In realtà Qui è stato fatto Più o meno La stessa cosa Cioè Viene preso Viene preso Un personaggio Con la solita Struttura Dello scienziato Che fa L'esperimento E si Insomma L'esperimento va male Si trasforma in mostro E questa parte In realtà È anche figa Ed è la parte Che mi ha attratto Perché È chiaramente Una citazione Di Frankenstein Di Dottor Jekyll Più che Frankenstein Dottor Jekyll Mister Misto a Dracula Perché c'è un po' Di tutto Però diciamo Che il meccanismo Del Creo Una cura E poi Una cura Che mi incula Una cura Che mi Che mi Si Alla fine va male E mi si rivolta Conto Contro È quella Di Dottor Jekyll Che mi stride Cioè Era Era un po' La base Di quello Poi Il tema Dei vampiri È fighissimo Sono molto Belle Bello Che sia stata Tirata in ballo Tutta I estrelli Della Costa Rica Mi sembra Quelli veri Che si nutrono Veramente di sangue Però ecco Ci sono scene Un po' Ridicole Come lui Che li va A catturare Si vede nel trailer Che si mette Lì come Esca Si taglia una mano E Per catturare Si Era assolutamente Necessario Bastava andare Al care Fur Comprare Due bistecche Che hanno ancora Un po' di sanguino E le appoggiavi lì Io credo che I pipistelli Non avrebbero fatto Tanto gli schizzinosi Ecco Magari toglievi La pellicola Ed erano contenti Quindi non era necessario Andare lì a tagliarsi La mano Che poi ti viene Anche un'infezione Poi oltretutto Era anche una salute Cagionevole Non mi sembra Proprio il caso Comunque Di questo tipo Di Diciamo Trocchezze Ne è pieno Il film Come ne è pieno Ne sono pieni I film Marvel Ma come ne sono pieni Anche dei film belli Di genere Non è che Bisogna Accanirsi Sul fatto Che alcune cose Non sono Credibili Ci può stare Ogni tanto Chiudere un occhio Lo si fa Però Molto più volentieri Quando un film È bello Questo è un film Che fondamentalmente Non lo è Non lo è Anche se Ha delle belle atmosfere Ha delle atmosfere horror Io ho ipnotizzato Con le mie chiacchiere Che Qualcuno L'ha visto Qualcuno E sono anni Che cercano Di spacciarci Nuovi Horror E dicono Ah il nuovo Doctor Strange Horror Il nuovo New Mutant Io lo chiamo New Mutant Mi fa così Cagare Lì Di quel film lì A solo A pensarci Che non lo guarderò mai E continuerò A chiamarlo New Mutant Ma Steffi Allora Dalle poche cose Che ti ho sentito Citare Non credo che Possano Andare bene Per te Perché è veramente Troppo troppo basic I dialoghi Non sono brillanti Non c'è niente Di brillante Ecco Le uniche cose Che sono Diciamo Degne di nota Sono Jared Leto Perché Comunque Alla fine È un attore Di grande caratura Comunque Che sa fare Tutto Sa fare tutto Fare Drammatici Film Mainstream D'azione Come questi E E poi C'è una forte Componente Legata al suo Fascino Jared Leto È come È veramente Come un vampiro Nel senso che Non è solo Bello Ma è anche Affascinante Lui sa di essere Affascinante Sa di avere Questo superpotere È un superpotere Tipico dei vampiri Tra l'altro Quindi Ci sta tutto Sta tutto Cioè Penso sia uno Dei pochi Attori Che Con Trenta chili in meno Super magro Attaccato A un tubo Che Deambula Come un Rachitico Riesce Essere sexy Comunque Cioè io Penso che Che Un po' Abbiano giocato Su questo Cioè Su attirare Un po' Una parte Di pubblico Femminile E o maschile Diciamo Non eterosessuale Che Che comunque Può apprezzarlo Esteticamente E poi vabbè Come attore Spacca Alla faccia Da pipistrello Sì 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 Beh lui è Lui secondo me È un grande fascino È un grande È una grande Capacità di Bucca allo schermo Bucca allo schermo Infatti il film Che ruota praticamente Tutto intorno a lui E la sua interpretazione È anche abbastanza Scorrevole Rispetto ai soliti Film della Marvel Che veramente C'è da uccidersi L'altro giorno Guardavo Disney Plus Perché L'ho fatto Per far vedere Un film a mio figlio E tra l'altro Lì forse Vedrò tutti gli alien Cioè li riguarderò lì Ci sono tutti I nuovi Marvel Oh ma Li guardavo Non ce n'è Proprio Non avevo nessuna Voglia di mettermi Nessuno Proprio Zero totale Zero totale Hanno tutti Comunque questa cosa Che devono essere Super infantili Stile come Tipo di cinema Mentre già questo È un film Che ha un linguaggio Molto più adulto Peccato Che però Non sia stato fatto niente A livello di storia Nel senso che poi La storia veramente È inesistente Non è Non ha Non riesce a creare Un pathos Con gli altri personaggi E quindi fondamentalmente E quindi fondamentalmente Tutto intorno A Il re deletto Però Non so come dire Non è che funziona Come funzionerebbe In Joker Che è un personaggio Che ha più personalità E quindi Che sono più personaggi In realtà Joker All'interno del film Quindi il film Può giocare Tutto su un personaggio Perché Lo stesso personaggio Cambia È un po' Da questo punto di vista È un po' Noioso Mi dispiace Che le parti Tra virgolette Horror Dove lui si trasforma In vampiro Alla fine Per una questione Probabilmente Di Dire Di Di Accessibilità Al prodotto Da parte anche Di un pubblico Più giovane Non c'è Una goccia di sangue Cioè La goccia di sangue C'è Ma non Che fuoriesce Dai corpi Lui squarcia Fa Ma non si vede niente E questo è un po' Un'autocensura Che a livello registrico È veramente Ficchievole Non so Proprio Se ne accorge Chiunque Che Non l'hai Volutamente Fatta vedere Perché E quindi Questo trasmette Comunque Un sapore Proprio Da prodotto Plastica Impacchettato È Stato al supermercato Cioè Questo è Non mi sono dispiaciute Le trasformazioni Del viso Di Jared Leto In questo Morbius Che al fine Assomiglia molto Al fumetto Però poi Alla lunga Con anche Un altro personaggio Che si trasformerà In Brattiero Diventano Noiosissime Anche i combattimenti Tutti in CGI Sembrano Usciti da un film Degli anni 2000 Non sono molto realistici Sono molto belli Molto dinamici Però Non sono molto realistici I corpi Le anatomie Un po' caricaturali Un po' fumettose Sono veri Che dire ragazzi Se siete fan Della Marvel Non è Tra i prodotti Peggiori Che hanno fatto Per me I primi Due Spider-Man I primi due Spider-Man Conto a Nolan Sono Da vomito Proprio Povero me No Mi si è proprio Incastrata la voce I primi due Spider-Man Conto a Nolan Sono una roba Vergognosa Sono Una stupidità Inaudita Questo sembra Girato da Jane Campion A confronto A confronto di quelli lì Quindi Comunque Se siete Diciamo Dei tutologi Del mondo Marvel Volete guardarvele Guardate Un peccato Per chi è Magari un super Come si dice Un super fan Della Marvel Non vedere Il costume Orbit Quello vero Quello di una volta Che secondo me Era un costume Perché Era una versione Del costume Del conte Dracola Fatta in versione Super eroistica Vogliono fare Il film horror E poi C'è solo Nelle scene horror Meglio che Tornino a fare Il film Ma anche Secondo me Nel senso Che non gli dai Quel sapore horror Perché poi Disilludi Disattendi Poteva essere Semplicemente Action E basta E tutto questo Sapore Lugubre E telefonato No Telefonato Nel senso Che era D'obbligo Siccome lui È un vampiro Ed obbligo Farlo così Ok Ma non è così Nel fumetto Nel fumetto È molto Alla luce del sole Non è Morbius Non è così Dark È dark Ma non è così Tanto dark Qua è un po' Un po' Come vedere il corvo Ecco Un altro difetto Enorme È che Morbius Non è buono E qui invece Si è voluto Fare un personaggio Buono Ma estremamente Buono E quindi Quando poi Sappiamo già Che andrà A diventare Un nemico Di Spider Meno Di chissà Chi cazzo E si alleerà Con il L'avvoltoio Perché questo si sa Ragazzi Se mi dite Spoiler Vi sto In un occhio E poi anche Nell'altro Lo vedete nel trailer Lo sapete Che comparirà L'avvoltoio Allora Mi viene da dire Questo gioco Del farlo buono E poi dopo Tutto ad un tratto Diventare Accattivo Mi sembra Pazzata Allora Poteva essere Molto più interessante Nella trama Vedere Morbius Un personaggio buono Che si trasforma Piano piano Per una serie Di ragioni In cattivo E magari Non perché Colato Pepistrello Lo fa Dientrare Cattivo Anche perché Perché Il pepistrello Non è che Può essere Anzi Quindi Diciamo che Non è tra i peggiori Film della marvel Che ho visto Non è uno di quei film Che mi fa dire Oh my god Cioè Può essere spider Vedermi Posso portare Questo è un po' tutto Per quanto riguarda Morbius Non è horror Quel poco di horror Che si vede Disattendere Aspettative Ecco C'è una buona parte Di action Ci sono anche Delle scene Molto carine Mi sono piaciute Le scene In cui lui inizia A stare meglio Perché Chiaramente Lo sapete Diventa Per eroe Molto belle Certe scene Dove lui Chiaramente Ha i poteri Del pepistrello Non vi dico niente Sapete quali sono I poteri Del pepistrello Tipo il sonar Cioè Di mandare Delle onde Che puoi essere In grado Di calcolarne La distanza In cui queste onde Le rimbalzano Quindi Praticamente Il pepistrello È capace Di disegnare Una mappa Tridimensionale Nella sua mente Di quello Che è intorno È battesco Ragazzi Io non riesco Neanche Se mi dicono Vuoi comprare Un chilo di pasta E due bottiglie D'acqua Io compro Due chili Di pasta E una bottiglia D'acqua E siri E siri Del mio telefono È ancora più scemo Di me Ogni tanto parte E niente Questo è tutto Per Morbius Comunque Eccoci Ho appena finito Di parlare Di Morbius L'unico Che poteva essere Interessato Un filino Un filino Al mio parere Su questo film Che sicuramente È più avvezzo Ai film della Marvel Era Silvano Era Silvano Ed è arrivato adesso Ma Te lo dico Non ti costringo A riguardarmi la live Visto che sei Comunque Quando puoi Ci sei sempre in live Non ti costringo Allora Non c'è proprio niente Non c'è storia Non c'è Dorme No non si dorme Ci sono film dove si dorme di più Da vedere a tempo perso Eh Dipende Io non lo vedrei proprio Un fan Un fan della Marvel Dovrebbe vederlo Secondo me Uno proprio di quelli Sfegatati Dovrebbe vederlo subito Perché comunque I film Sono Quei film lì Sono il tuo genere Ti piace E uno Così così Si può aspettare Tranquillamente Che esca su Disney Plus Se devo essere sincero Sfegatati